Buonasera cari amici del Rione, siamo con Domenico Ramaglia, figlio di Ciro Ramaglia, l'organizzatore della serata, il Fabio Reale & Friends, le cantavo da bambino. Innanzitutto ti volevo chiedere come sta andando la serata, ti stai divertendo? Tantissimo, una bella serata, molto molto bella, grazie. Poi per quanto riguarda i tuoi ultimi lavori, le ultime canzoni che hai pubblicato, Allora, ti fermo subito, perché io cantavo, ma stiamo iniziando di nuovo a fare qualche progetto. Gli ultimi brani che hai pubblicato? Vint'anni fa. Come mai questo ritorno in scena? Perché mi andava, la cosa mi stimolava e l'ho voluto fare, per divertimento più che altro. Cosa ne pensi dell'evoluzione della musica dalla canzone classica napoletana ad oggi? Beh, si è evoluta tantissimo, senza discriminare nessuno, però è cambiata, di tanto. In bene o in male? Alcuni in bene, alcuni in peggio, sincero. Tornando un po' alla musica del passato, allora, quali sono i miti, gli idoli, gli esempi, esattamente? Allora, te ne dico qualcuno, Luciano Caldore, Cinzia Oscar, che io l'adoro, Natale Galletta, chi altro? Adoravo Ciro Ricci, ha dei tempi Ciro Rigione, una roba del genere, chi altro? Ni, basta. Qualche ospite che invece è qui stasera? Cinzia Oscar tutta la vita. Quindi l'emozione di un organizzatore ad avere uno dei propri idoli ad una serata. Beh, è una cosa bellissima, vederla lì che si esibisce è una cosa bellissima, veramente. Tornando a Domenico Ramaglia, artista, tu adesso torni di nuovo, scendi nuovo in campo, diciamo così, con un nuovo lavoro. Che si intitola? C'è un progetto, non dico nulla, c'è un progetto. Non possiamo spoilerare niente, 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 niente. Poi vedremo. Allora ti auguriamo in bocca al lupo, grazie per essere stato con noi. A questo punto Raffaele, magari lo invitiamo in live così potrà sbottonarsi un po' in più. Va bene, mi sbottonerò volentieri. Grazie. Sarà un piacere ascoltarti in live, ti aspettiamo a Rione live su TikTok, grazie. Buonasera. Grazie. Grazie.